La Casa della Salute di Praia Mare sarà dotata del servizio di risonanza magnetica presumibilmente entro aprile 2013. A rivelarlo il direttore del distretto ASP Praia Mare Scalea Pierluigi Cosentino, anche responsabile della struttura sanitaria praiese dove nei giorni scorsi sono stati effettuati sopra luoghi tecnici e riunioni operative allo scopo di verificarne la fattibilità. I controlli sulla possibilità di accogliere i macchinari della risonanza magnetica a riferito Cosentino sono stati svolti da un ingegnere dell'azienda fornitrice e da un tecnico dell'ASP di Cosenza. Al momento ha poi aggiunto sono stati individuati i locali idonei ad ospitare l'impianto che è già stato acquistato e che ha dei costi di diverse centinaia di migliaia di euro. Ora però viene chiarito dai vertici sanitari serviranno ulteriori tempi tecnici per redigere e far approvare il progetto di fattibilità, oltre al periodo necessario a compiere i lavori di adeguamento del reparto dell'ex ospedale di Praia Mare scelto per ospitare la risonanza magnetica. In particolare, spiega il direttore Cosentino, va realizzata la cosiddetta gabbia di Faraday, ovvero il sistema isolante dai campi elettromagnetici e di conseguenza anche gli impianti elettrici vanno adeguati. C'è dunque ottimismo da parte della dirigenza della struttura sanitaria praiese per la predisposizione di questo importante servizio medico, mentre si attende ancora il compimento dell'iter burocratico relativo allo studio di fattibilità della casa della salute. Come confermato da esponenti dell'unità di progetto del piano integrato sanitario della regione Calabria, la predisposizione della rete delle case della salute è a buon punto. Dopo i decreti sulla fattibilità dei tre modelli individuati da Formez, gli ospedali di Chiaravalle, Siderno e San Marco Argentano, per Praia Mare è ancora necessario attendere il lavoro dell'ASP di Cosenza.